Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video e facciamo un po' il punto della situazione ragazzi su quello che è accaduto durante questo weekend nel mondo delle cripto, perché insomma ne abbiamo viste di tutti i colori Che cosa è successo innanzitutto ragazzi? È successo che la market cap continua ad aumentare, è arrivata a 212 billion I volumi sono davvero volumi alti, soprattutto quelli su bitcoin e la dominance di bitcoin è arrivata quasi al 60% Quindi insomma abbiamo parecchie, andiamola a vedere questa dominance di bitcoin come si sta sviluppando nel tempo Andiamola a vedere negli ultimi 3 mesi, guardiamola Vedete, addirittura mi ricordavo ieri quando ho fatto il video, ieri la dominance era arrivata a circa 63-65 Probabilmente aveva anche toccato, adesso è un pochino diminuita Questo vuol dire che c'è un po' un disaccoppiamento tra bitcoin e le altcoin E questa tra l'altro è una cosa che vi ho sempre detto essere positiva Cioè nel momento in cui bitcoin comincia a crescere ma non gli vengono dietro tutte quante le altcoin E quindi, quando è che lo vedete ragazzi? Se vuoi andare a vedere i cross con bitcoin e le altcoin Non so, bitcoin con Ethereum, bitcoin con Ripple, bitcoin con Monero e così via Vi rendete conto di quando sta salendo molto bitcoin e invece le altcoin non stanno salendo così tanto Ed è proprio quello che è successo Dal punto di vista, andiamo a vedere un po' dietro Dal punto di vista di che cosa hanno fatto nelle ultime 24 ore, guardate Bitcoin adesso si è portato sui 7000 dollari Vi ricordo che ieri ha toccato i 7800, adesso li andremo a vedere Quindi rispetto a quei massimi perde circa il 3,6%, anche Ethereum identico E Ripple è praticamente fermo a 0,32 Dopo questa impennata Ripple non è che sta facendo più tanto Bitcoin Cash perde il 3,56 Litecoin perde il 5,39 E così via Allora ragazzi, ci dobbiamo un attimo ricordare il periodo in cui stiamo vivendo Allora, questo è il grafico di Bitcoin Vi voglio ricordare un paio di fattori C'è Binance con l'attacco hacker che ha avuto E ha detto poi che restituirà i 7000 Bitcoin rubati Ma nel frattempo ha bloccato la possibilità di far uscire o far trading all'interno del suo exchange E questo comunque va tenuto in considerazione Poi, che cosa c'è ancora? C'è lo scandalo, come al solito, Bitfinex Binance Aspettate che Tether drops in favor Bitcoin Avevo letto questa cosa Di Binance che Che aveva intenzione di Vediamo se è scritto qui Poi ve lo andate a leggere voi Intanto vi riporto la news Aveva intenzione di Ha spostato i suoi USDT su un cold wallet E aveva intenzione di Diciamo convertirli, di dropparli a favore di Bitcoin Quindi c'è riaperta ancora la diatriba Bitfinex e Tether E ovviamente Binance Quest'articolo, andatelo a leggere Dice What's the worst that can happen? Qual è la cosa peggiore che può accadere? Ragazzi perché quello potrebbe essere davvero un fattore importante Quindi E poi ci sono ovviamente notizie positive C'è Facebook che ha dichiarato di Di star facendo grossi investimenti sul mondo delle cripto Vuole creare un sistema di pagamento E poi c'è la notizia di HTC Per quanto riguarda ancora il mondo delle cripto Insomma, tante notizie positive Che ovviamente ragazzi non sono Non sono queste In realtà Il motivo per cui il prezzo di Bitcoin ieri è arrivato Ho detto 7,8 ma è arrivato a 7,6 È arrivato a toccare i 7,6 E poi ha girato Mi metto un secondo ragazzi sul prezzo di Bitfinex Perché è lì che ho tutti quanti i disegni E come vi ho spiegato perché Marco usi Bitfinex Se ci sono tutti questi problemi dietro a questo exchange Lo uso proprio perché ci sono tutti questi problemi E proprio perché Mi aspetto Che visto che c'è di solito uno spread Che varia tra i 100 e i 300 dollari Tra il prezzo di Bitfinex e gli altri Mi aspetto di vedere Il prezzo di Bitcoin su questo grafico scendere più velocemente Allora che cosa è successo ragazzi Vi ricordate vi avevo segnato questo rettangolo Era il rettangolo di mia prossima attenzione Dove alla base c'era questa grande struttura Che era questa struttura qui Che nel passato aveva funzionato da supporto Bene Il prezzo Dopo aver rotto Guardate Dopo aver rotto questa struttura qui In maniera importante con questa candela Poi ha Vedete Piano piano è salito Senza farsi troppo notare E poi di nuovo Questa grande candela Fatta nel weekend Il weekend è sempre un periodo strano ragazzi È un periodo strano perché è un periodo in cui non ci sono Gli istituzionali Non ci sono i grandi investitori Ma c'è tanta Si concentra tanta manipolazione E tanta Volontà Nel far muovere il prezzo Perché far muovere il prezzo è più facile Proprio perché non ci sono un certo tipo di investitori Fatto sta ragazzi Che il prezzo è arrivato a toccare quest'altra struttura Che cosa vi avevo detto io Vi avevo detto Se il prezzo si mette dentro questo canale Vi ricordate il video di qualche giorno fa E comincia a lateralizzare Ok E magari usa come resistenza questo valore Poi scende e usa come supporto questo Ok Poi Il prezzo a un certo punto prenderà una direzione O verso l'alto o verso il basso In questo caso l'ha per resa verso l'alto Bene Tra l'altro lo ha fatto senza lateralizzare per niente Il che Come al solito Non mi piacciono troppo queste impennate ragazzi Perché il prezzo guardate È sceso Ve lo faccio vedere l'altra volta Vedete questo primo impulso ribassista E questo secondo impulso ribassista Grande che c'è stato sul prezzo Bene Assomiglia proprio a questo primo impulso rialzista E questo secondo impulso rialzista Quindi il prezzo si è quasi comportato Alla stessa maniera Ma in maniera inversa Tra l'altro appunto ragazzi Dal punto di vista di analisi tecnica Ha formato questo bellissimo Rounding bottom qua Una figura di analisi tecnica Rialzista in questo caso Fatto sta che il prezzo ha rotto Ok Che cosa può succedere adesso Adesso qui c'è un'altra struttura importante Tra i 7.5 e i 7.6 Bene Il prezzo adesso potrebbe Flettere In maniera fisiologica E fisiologico dopo questa grande impennata Ragazzi Qui con l'RSI comunque Stiamo Verso i massimi E Questa volta voglio farvi notare Guardate i volumi Come i volumi hanno accompagnato il prezzo Ok Quindi c'è stato anche Un record di volumi Tra l'altro questo ragazzi È il prezzo di agosto del 2018 Quindi siamo Ai valori di prezzi di agosto 2018 Quindi il prezzo potrebbe flettere E usare come supporto Questa struttura qui Ok O la base a 6.7 O entrare nel rettangolo E usarlo Come supporto per poter rimbalzare Nel caso in cui Per quanto mi riguarda Il prezzo Faccia questo Cioè fletta Ritracci E mi dia i segnali Di utilizzare come supporto E quindi di aver rimbalzato Su questi valori Per me quello sarà un segnale Molto importante Per ragionamenti che farò E faremo poi insieme qua sul canale Viceversa Se il prezzo adesso flette Ritraccia E rompe Allora mi aspetto Che qui possa andare Ad appoggiarsi su Varie strutture Quindi la prima struttura È sicuramente questa Ma è una struttura molto debole Quindi mi aspetto Che possa più facilmente Tornare verso questi valori Quindi tra i 5.4 E i 4.9 E poi magari Rimbalzare Quindi Per adesso Il prezzo è molto forte Ragazzi c'è molto entusiasmo Ricordatevi sempre una cosa L'ho detto sul video di Martedì Per i mercati finanziari Ma questo è vero sempre I crash di mercato O le grandi flessioni Di mercato I grandi ritracciamenti Di mercati Avvengono Non quando c'è pessimismo Qui Su bitcoin C'era grandissimo pessimismo Anche qui C'era grande pessimismo Nessuno pensava potesse far questo Ok Non è in questi Momenti Che avvengono grandi Ritracciamenti del prezzo I crash o i ritracciamenti Avvengono quando c'è Entusiasmo Quando c'è Estremo Ottimismo Quando c'è FOMO Fear of missing out Quando c'è la Tutti vogliono entrare sul mercato Perché hanno paura Di stare a perdere Il treno È in questi momenti Che dobbiamo stare attenti A quello Che succede Con il prezzo Sul prezzo Ok Ragazzi Oggi comincia anche Consensus A New York Quindi Comincia Con questo Prezzo di bitcoin Così alto Quindi staremo a vedere Che cosa Succederà durante la Settimana Seguiremo il prezzo Lasciatemi qui sotto Un commento Per dirmi Come la pensate voi Su bitcoin E che cosa Può aver Quali possono essere state Le motivazioni Che hanno Creato Questo rialzo Noi ci vediamo prestissimo Grazie mille per l'attenzione Buon trading a tutti Ciao